Colori nuovi, fantasia e immagini simboliche sulle facciate degli edifici popolari color ocra di San Basilio, che si trasforma in una piazza espositiva permanente di street art. Murales, dimensione di palazzo e opere di design urbano per rigenerare il quartiere a nord-est della città, per una volta tanto sulle cronache per motivi di bellezza artistica e creatività sociale. Rimarranno ai cittadini le opere realizzate grazie al progetto Samba, nato da un'idea del team di Waltz, che si occupa da anni di arte pubblica contemporanea, in associazione con la casa di produzione cinematografica Kinesis. Due dei muralisti più rinomati al mondo, lo spagnolo Lichen e il foggiano Acostino Iacurci, hanno realizzato quattro murales monumentali e affiancato gli alunni delle tre scuole del quartiere. I bambini dell'elementare Gandhi hanno realizzato un'opera tridimensionale di pensiere in via Fabriano. Gli studenti della superiore Von Neumann hanno ironizzato sulla carenza di trasporto pubblico, immaginando la stazione Samba, una stazione metropolitana dei sogni, nella piazza adiacente al circolo Bocciofilo. I ragazzi della scuola media Fellini hanno tappezzato le strade collocandine create grazie ad un corso di serigrafia tenuto dall'illustratrice Irene Rinaldi. Di grande impatto le quattro opere degli artisti. Il Rinassere in via Maiolati, Angolo via Fabriano, un enorme rastrello che ara la vecchia città industriale permettendo alla terra di rinascere. Il Devenire in via Fiuminata, un'esplosione floreale da cui nascono fiori e animali nuovi, simbolo di una rigenerazione del territorio che parte dall'arte e dalla cultura, entrambi dello spagnolo Lichen. Ancora il tema di un nuovo rapporto virtuoso tra l'uomo e l'ambiente nelle due opere dell'italiano Jacurci, The Blind Wall and The Globe.